è spenta, è spenta concentrato è ormai quel tronco lì ormai sta esplodendo piano chiudi e non ho fatto mai di merda io, ho perduto troppo storico si ha voluto provare ma era troppo diagonale si è successo si è successo wow ha provato anche allargarla ma vedo che l'ha messo lo stesso, è proprio balorda quella discesa bravo luigi bravo controllata benissimo vedi tranquillo bravissimo a zero ci ha fregato a tutti luigi sai cosa ecco lì adesso ti va giù però anche se va giù bisogna tenere sui piedi si fa così quindi dobbiamo sapere che va giù e non mettere il piede piuttosto teniamo il peso un po' più basso eh si va giù dietro e mettiamo giù il piede ma vedi anche lì a tutti va giù il dietro e mettiamo giù il piede vai toni vai toni cacchio hai fatto così bene prima un attimo cacchio grazie 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 grazie